Ciao, come state? Mentre si viaggia si ascolta la musica E allora ascoltando la musica mi è venuta in mente di fare un gioco E questo gioco abbiamo iniziato a farlo per il mese di luglio Sicuramente può proseguire anche per il mese di agosto Sul canale Patreon, Simona non solo radio In che cosa consiste questo gioco? Beh, è una challenge con delle canzoni dove ogni due giorni io proporro un tema E da questo tema chi ha voglia di partecipare dirà la sua canzone in base al tema che io avrò proposto Le canzoni che vedete qui sotto nei link sono alcune delle risposte che sono state date già dopo il mio primo tema Ovvero la canzone che conteneva all'interno del titolo un colore Beh, io ho scelto invece quella che è in sottofondo Gold degli Spandao Ballet E' anche un modo per viaggiare in mezzo alla musica e magari riscoprire qualche canzone Così come facevamo con i vinili che magari non sempre si ascolta O che per i più magari anche sconosciuta Per cui se avete voglia di partecipare anche voi potete farlo Naturalmente iscrivendovi al canale Patreon Simona non solo radio Io vi aspetto, mi raccomando E come sempre guidate con prudenza Ma purché la musica vi accompagni sempre Perché il viaggio, il viaggio è bello Abbiamo anche una bella musica in sottofondo Oltre naturalmente a chi ci è seduto accanto Beh, questo lo dobbiamo dire Vi lascio anche con il re di Pietro, ovvero il Monviso E vi auguro una buona giornata E ricordatevi, se avete voglia di partecipare a questa challenge Beh, Simona non solo radio, il canale Patreon E potrete anche voi dire la vostra E poi chi lo sa, magari a fine estate Ci sarà la voglia di fare o una giornata tutti insieme Anche su Youtube a ricordare queste canzoni Oppure, come mi era venuto in mente Potete anche creare una playlist Da lasciare a disposizione di tutti Per ricordarsi anche quest'estate Un pochettino anomala Ciao, alla prossima Simona non solo radio Se volete partecipare Un bacio, ciao